Signor Presidente della Repubblica, caro Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, è un grande piacere ed onore essere qui a Napoli, in questa bellissima sala, per riflettere su un tema troppo difficile per le mie competenze e tuttavia cercherò di fare del mio meglio. Mi pare evidente che l'avvio del nuovo quinquennio istituzionale dell'Europa con la nonna legislatura del Parlamento europeo e con la nuova Commissione europea consente, anzi richiede, di fare una riflessione sui prossimi dieci anni. Nel 2021 questi due soggetti istituzionali, Parlamento e Commissione con il Consiglio europeo daranno vita anche al bilancio settennale che porta al 2027, quindi verso la fine del decennio successivo. Tenendo le linee guida degli ideali, privilegerò nella mia odierna riflessione soprattutto i programmi e la concretezza. Lo faccio perché la mia competenza professionale è anzitutto quella dell'economista istituzionalista, ma lo faccio anche perché mi ispiro spesso come soggetto non in grado di replicarne certamente neanche la minima parte delle competenze e degli ideali, mi rifaccio spesso al pensiero di Luigi Einaudi. Luigi Einaudi insisteva molto che per ogni economista istituzionale era da un lato importante autodefinire se stesso, sia pure in modo modesto, lui non era tale da doversi definire modesto perché era un genio, ma era comunque modesto. L'economista istituzionale deve tenere ben presente i fini, i mezzi e i modi e naturalmente sulla scelta di fini, mezzi e modi influisce anche una propria scelta ideale che viene prima della caratterizzazione professionale quella che io ho detto economista istituzionalista. Non dico quale sia la mia, spero che si potrà evincere alla fine della mia relazione. Io credo che l'Europa, e lo sappiamo tutti, stia camminando in un ventesimo secolo dove si intersecano delle dinamiche che ci proiettano in un futuro di lungo periodo con innovazioni radicali, mentre all'opposto stanno emergendo delle traiettorie politico-istituzionali neoprotezioniste del ventesimo secolo o addirittura di secoli precedenti. Nella classica tripartizione tra istituzioni, società ed economia, nel ventunesimo secolo si sta innestando la quarta rivoluzione industriale e quella del cambiamento climatico e l'Europa appare talvolta come una flottiglia sparpagliata che galleggia tra corazzate strategiche che potrebbero schiacciarla. Sono temi che in giugno ho trattato davanti con la presenza istituzionale e ringrazio ancora il Presidente della Repubblica all'Accademia dei Lincei, ragione per cui oggi cercherò di cambiare evidentemente intonazione rispetto a quella trattazione. La costruzione europea, malgrado inciampi vari, è andata avanti in una peculiare combinazione di federalismo, confederalismo e funzionalismo che caratterizza come un unicum la eurodemocrazia. Io non credo che si debba cercare di classificare in modo univoco la caratteristica della eurodemocrazia perché tale non è classificabile. In taluni periodi è prevarsa la linea federalista, in altri quella confederale e in altri quella funzionale e questo spiega anche perché il sistema di governo e di partecipazione nell'Unione Europea è un sistema composito, la Commissione, il Consiglio, il Parlamento ma anche le autorità indipendenti che in tutte le democrazie economiche ci sono e funzionano tra le quali la Banca Centrale Europea. Quindi io credo che alla fine in questa navigazione complessa della flottiglia l'Europa abbia raggiunto dei risultati all'inizio ritenuti assolutamente impossibili. Alcuni di questi sono stati trattati stamattina e non ritornerò. Vorrei fare solo due riferimenti emblematici da economista. Uno è il prodotto interno lordo della Unione Europea che nasce e vive, dobbiamo ricordarcelo, dalla forza dell'economia e della società, delle imprese e delle persone ma anche dalle istituzioni che regolano il funzionamento di questi soggetti. Si tratta di milioni di operatori intrecciati che nel 2018 hanno portato il prodotto interno lordo dell'Unione Europea in parità di poteri d'acquisto a quasi 23 triliardi di dollari in parità di poteri d'acquisto, sicché l'Europa è preceduta in termini di parità di poteri d'acquisto solo dalla Cina con 25 miliardi mentre gli Stati Uniti seguono con 20 miliardi. Io non credo che se i singoli paesi dell'Unione fossero rimasti tra loro separati questo risultato sarebbe stato raggiunto. Mercato comune, libera circolazione e via di seguito. Un altro enorme successo è l'euro che nasce da un potere istituzionale monetario sovrano e vive nell'accettazione fiduciaria di milioni di operatori in tutto il mondo. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Oggi nel paniere del Fondo Monetario Internazionale l'euro nato nel 1999 poco fa pesa il 30 per cento. Il dollaro pesa il 41 per cento. La distanza si sta via via riducendo. Il dollaro è stato fino al 1999 la valuta pressoché unica delle transazioni internazionali. L'euro si sta avvicinando. Vedremo cosa succederà con l'interimento della quotazione del Remimbi nel paniere del Fondo Monetario Internazionale nei prossimi anni. Quanto a livello di civiltà e di benessere equamente diffuso credo sia difficile se non impossibile trovare con riferimento a istituzioni politiche di grandi dimensioni un caso come quello dell'Europa. Una parola sull'Italia. L'Italia in questa vicenda occupa una posizione peculiare. È molto rispettata per varie componenti diverse tra loro. Una delle quali è certamente quella di essere stato un cofondatore della prima comunità europea del carbone e dell'acciaio e poi via via in tutti gli anni successivi. Mi sia però consentito di ricordare che studiosi italiani e personalità della cultura italiana avevano prefigurato largamente la costruzione di un'Europa unita in diverse forme e con quella che è la mia appartenenza all'Accademia dei Lincei vorrei ricordare il contributo di Croce e Einaudi, due grandi pensatori. Una piccola notazione aggiuntiva su Einaudi che nell'anno 1943, quando la guerra era ancora in corso, configurò l'ipotesi di una moneta unica europea ritenendo che quella fosse assolutamente essenziale come base per costruire l'Europa stessa. E anche nei dialoghi con i reclusi di Ventotene parlava di questa moneta unica. Mario Draghi, nei suoi sette anni di mandato, nei quali ha svolto il ruolo di presidente di un'autorità indipendente, io credo sia stato cruciale nel salvare la costruzione europea e addirittura abbia consolidato l'euro nella crisi economica. So che questa è un'affermazione che a molti non piace, ma io ritengo che sia andata così. Naturalmente non penso di riuscire a convincere gli euroscetti cronici e gli italo disfattisti che non cambieranno mai idea, o forse la cambieranno, ma non sempre è facile cambiare idea, specialmente quando ci si è affezionati a un'idea, ma questi sono dei dati ai quali ne vorrei aggiungere un altro riferito all'Italia. È vero, l'Italia ha sofferto una crisi economica potentissima, non c'è dubbio, per varie cause. Ma non possiamo dimenticare che in questa crisi molte imprese hanno fortemente innovato e sono riuscite a mantenere, anzi a guadagnare delle posizioni sui mercati europei e sui mercati internazionali. Ne fa fede l'avanzo commerciale, soprattutto quello manifatturiero, che posiziona l'Italia come il secondo paese d'Europa per avanzo commerciale dal punto di vista manifatturiero e il quarto o il quinto al mondo. Quindi la crisi è stata pesante, ma molte imprese hanno saputo innovare e con questo hanno mantenuto addirittura cresciuto quote di commercio internazionale. L'Europa però ha adesso bisogno di un rilancio strutturato, se ne è parlato questa mattina, quindi non episodico, che duri nel tempo e, come ho detto poc'anzi, che guardi almeno ai prossimi dieci anni. Ed è molto importante, anche per l'affermazione del livello di civiltà dell'Europa, constatare che due donne molto qualificate, Ursula von der Leyen e Christine Lagarde, sono arrivate oggi alle massime giurisdizioni, una economica e l'altra politico-economica, dell'Unione Europea stessa. Nella mia valutazione, studiando anche attentamente la storia personale di altri commissari europei, io credo che due commissari avranno un ruolo molto importante a fianco di queste due grandi persone, che sono Silvi Goulart e Paolo Gentiloni. Se il tempo me lo permetterà, non credo sarà possibile, spiegherò anche il perché. Ma credo che questi due commissari potranno svolgere un ruolo molto importante, così come accadde nella precedente giurisdizione europea, soprattutto nel ruolo di Moscovici, che è stato anche per l'Italia, malgrado le affabulazioni, un grande supporter di Juncker, che a sua volta è stato un grande amico dell'Italia, amico nel senso appropriato del termine, non per fare favoritismi, per conoscere delle necessità. Concordo anche con chi ha detto questa mattina che l'elezione della von der Leyen è stato un evento politico-istituzionale cruciale, perché il Parlamento ha smentito la cosiddetta ondata dei sovranisti anti-europei e ha fatto una scelta pro-Europa che non credo si esaurirà con questo episodio. Ed in questa scelta pro-Europa io ho visto anche, senza nessun pregiudizio, l'apprezzabile ripensamento di una forza politica italiana. Adesso bisognerà chiedersi e chiedere alla von der Leyen qual è il programma, quali sono i fini dunque, quali sono i mezzi e quali sono i modi. Io non credo che bisognerà dare un'apertura di credito indiscriminata alla Presidente, malgrado sia certamente pro-europea, con pragmatismo. Un piccolo episodio voglio citare. Nel congresso della CDU del 2011, la von der Leyen parlò della necessità di Eurobond, che è una categoria sulla quale io ho speso decenni di studi. Poi non andò più avanti questo discorso, ma lei ne parlò, dicendo che era una necessità. Poi tacque. La von der Leyen ha presentato, come tutti noi sappiamo, un programma sul quale il Parlamento europeo l'ha eletta. È un programma molto articolato, che rimanda a tutta una serie di elaborazioni precedenti, e qui mi permetto un azzardo, che a mio avviso potrebbero persino denotare che lei si stava preparando e che non è arrivata così per caso in quella posizione. Le sei filiere su cui lei declina il programma sono un green deal europeo, un'economia che lavora per le persone, un'Europa pronta per l'era digitale, proteggere lo stile di vita europeo, un'Europa più forte nel mondo, un nuovo slancio per la democrazia europea. Molti si sono lamentati, affermando che si tratta di programmi evocativi. Certamente, se i programmi non si leggono, i titoli rendono i programmi evocativi, ma se si approfondisce si capisce che c'è dentro parecchio in questi programmi. Faccio due esempi. Von der Leyen insiste molto sulla rivoluzione dell'intelligenza artificiale e di tutto ciò che si concette ai big data a questa rivoluzione davvero impressionante, forse addirittura più intensa e più pervasiva della rivoluzione industriale. E fa un'affermazione che a me è piaciuta molto e che evidenzia come uno Stato nazionale chiuso in se stesso dentro l'Unione Europea non ha nessuna possibilità di confrontarsi con queste dinamiche enormi. A un certo punto della sua presentazione, del suo programma, dice bisogna in taluni campi investire moltissimo per conseguire in Europa una sovranità tecnologica in determinati settori. Cioè vuol dire non avere una dipendenza esterna che domani potrebbe diventare una dipendenza fortemente condizionante. e quello che mi è piaciuto anche per poter declinare questa sovranità tecnologica che non vuol dire autarchia ma vuol dire capacità di decidere su se stessi alle imprese, alla società, alla sanità cioè a tutte quelle caratterizzazioni che rendono un paese tra virgolette civile. L'unico punto che mi lascia un po' perplesso e poi mi avvio rapidamente alla fine è che non enuncia, almeno per quanto io abbia potuto accertare fino ad ora, delle cifre specifiche necessarie per questi enormi investimenti e poi spiegherò perché insisto su questo punto. Voi sapete che gli scienziati si stanno lamentando molto perché il di Castero, impropriamente così definito da un economista, scienze, tecnologie e innovazione non ha una sua titolarità in un commissario perché è stato incluso nel di Castero innovazione e gioventù. Si vedrà cosa succede il Parlamento europeo si sta molto dando da fare per riconfigurare non solo la denominazione ma anche la ripartizione delle competenze che il Parlamento europeo ha diritto di esaminare così come esamina i potenziali commissari. Sul clima e sull'ambiente von der Leyen è veramente molto ampia nelle sue trattazioni e nella sua concretezza giunge a prefigurare un piano di investimenti per un'Europa sostenibile a configurare una finanza verde che investa mille miliardi in dieci anni. È una buona cifra se voi pensate che tutto il bilancio europeo del setennato entrante è di poco più di mille miliardi. Quindi per l'Europa verde, sostenibile, sviluppo sostenibile, non ritorno a un sistema agrobucolico, sviluppo sostenibile, vorrebbe investire mille miliardi. E qui fa anche quel riferimento alla Banca europea degli investimenti il cui bilancio per il 25% va a investimenti di questo tipo ed è la maggior dimensione che una banca sovranazionale eroga a questo tipo di finanziamenti. Lega il tutto la signora von der Leyen al tema istruzione sul quale però non mi soffermo. Tuttavia devo anche dire che in taluni punti anche nel suo ringraziamento al Parlamento europeo ha dimostrato meno visione e più cautela. Lo dico con la piena consapevolezza che una personalità politica non può essere unidirezionale, deve anche tenere conto delle contingenze del momento, non può prendere una posizione radicale, dogmatica, che poi non consente di gestire o di fare azioni di governo. Perché secondo me ha due punti deboli nella sua riflessione. Uno afferma che ormai la situazione economica europea è a posto, stiamo crescendo bene, l'occupazione è alta, la disoccupazione è bassa e via discorrendo. Non sono ovviamente d'accordo se l'affermazione è tutta qua, perché soprattutto nelle convergenze territoriali o delle parti geoeconomiche dell'Europa la situazione è profondamente diversa. Quindi ritengo che se questa è una proposizione secca, non credo che lo sia, sia molto difficile condividerla. E l'altro aspetto che mi ha non convinto è che enfatizza il ruolo del bilancio europeo, che è un bilancio dell'1% rispetto al PIL, 1% anno rispetto al PIL dell'Unione Europea, quello degli Stati Uniti è il 27, quello della Germania è il 30, quindi la dimensione di intervento finanziario dell'Europa rispetto alle finanze statuali è davvero modestissima, ma insomma sembra quasi gravare sempre su queste questioni del patto di stabilità tutta la potestà di intervento finanziario dell'Unione Europea stessa. Mario Draghi che conclude il suo mandato e io credo che dobbiamo osservare molto quest'ultimo mese di mandato non tanto per le decisioni monetarie che ha già preso e non ne prenderà altre da qui alla fine, ma per quanto dirà con quella sua compostezza sintetica che spesso richiede l'utilizzo di una analisi lexicale profonda perché è talmente sintetica in taluni casi che ogni parola richiede una meditazione. Comunque Mario Draghi dice tre cose nella conferenza stampa del 12 settembre del passato. primo che lo stimolo monetario è arrivato al suo confine non può andare oltre e lo vediamo dai tassi di interesse che sono a zero o addirittura per i depositanti negativi quindi la politica monetaria non può fare più nulla ha fatto quanto poteva fare e la storia andrà scritta su quanto è stato fatto e sui meriti di Mario Draghi. La seconda affermazione riguarda le istituzioni europee dice hanno posto in essere una politica di bilancio e cito tra virgolette lievemente espansiva vuol dire che cosa vuol dire che non hanno messo in atto una politica di bilancio forte quella che normalmente si può e si deve usare nelle fasi di recessione terzo ci sono dei paesi che hanno dei grossi margini di intervento per fare investimenti e che devono farli non ha scritto Germania ma tutti noi lo capiamo che è la Germania che non fa abbastanza investimenti e il quarto ovviamente penso che si rivolga soprattutto all'Italia le finanze pubbliche possono e debbano essere più favorevoli alla crescita quindi vuol dire tassazione vuol dire incentivazione di determinate attività ma sempre nell'ordine delle finanze pubbliche stesse ecco queste quattro proposizioni di Mario Draghi sono a mio avviso molto importanti e spero che la signora Fanderley ne tenga conto adeguatamente concludo l'Europa ha superato la crisi economica naturalmente politica istituzionale non spetta a me secondo me non l'ha superata l'ha fermata ma un conto è fermare un conto è superare teniamo conto che dal 2007 al 2018 l'Europa ha perso 4.400 miliardi di investimenti cioè 400 miliardi all'anno di investimenti una cifra enorme perché perché il tasso il rapporto tra quota degli investimenti sul prodotto interno lordo è scesa da quasi il 24% al 19% e poi è risalita al 21% ma la discesa dal 24% al 19% 5 punti hanno fatto perdere 4.000 miliardi di investimenti 400 miliardi all'anno pensate poi agli effetti moltiplicativi di questi investimenti quindi è chiaro che l'Europa si trova di fronte a un bivio se va avanti in questa situazione definita recessione arriverà alla stagnazione che è una patologia vera e propria la recessione è un evento di tipo congiunturale la stagnazione è una patologia molto difficile da curare se vuole invece rilanciare in economia deve certamente fare molti più investimenti e qui concludo con due proposte l'Europa ha varato il cosiddetto fondo europeo salva stati lo ha varato provvisoriamente nel 2010 e definitivamente nel 2012 questo fondo e qui tocco anche gli aspetti politico-istituzionali e anche trattatistici non è stato incorporato nei trattati europei da subito perché non sarebbero mai riusciti hanno fatto una società di diritto internazionale cioè un organismo sovranazionale partecipato dagli stati dell'eurozona quindi non è una società per azioni ma è una società a partecipazione come quella società un organismo sovranazionale partecipato solo dai paesi dell'eurozona questo fondo che ha salvato io credo la Grecia il Portogallo la Spagna l'Irlanda Cipro questo fondo sta facendo pochissime emissioni a tassi che sul breve periodo sono zero perché c'è una domanda di diversificazione valutaria e dal punto di vista dei titoli di Stato che viene anche dalla Cina al di fuori dai titoli di Stato americani e dal dollaro sono arrivati a delle emissioni quarantennali che sono piuttosto lunghe andando poco sopra l'1% quindi vuol dire che c'è un'esigenza molto forte di acquistare titoli europei non titoli di Stato dei singoli paesi ma dell'Europa in quanto si fa una diversificazione valutaria e finanziaria concludo non vi voglio intrattenere sui titoli detenuti al momento dalla Banca Centrale europea che sono 2.200 miliardi di titoli di Stato nazionali e saliranno a 2.600 miliardi e questo è un problema io spero che la Lagarda abbia la stoffa di Draghi per risolverlo perché è un grosso problema ma vi dico un'ultima mia considerazione avrete sentito tutti parlare di questi Eurobond Eurounion Bond poi Smart Bond Soft Bond che sono tutti questi titoli europei che potrebbero bene il primo a parlarne e a configurare un progetto è stato Delors nel 1993 quindi abbiamo già passato i 25 anni considerando la storia economica moderna e anche contemporanea io non conosco una istituzione sovranazionale che abbia un potere monetario senza il potere di emettere titoli di debito pubblico quindi l'Europa deve completarsi senza perciò fare una scelta federalista confederalista funzionalista o quell'altro che voi volete ma deve completarsi da questo punto di vista e un'occasione come quella di oggi con tassi di interesse bassissimi accettati dal mercato con l'istanza di diversificazione valutaria e finanziaria di grandi paesi come la Cina credo che non si ripresenterà più io ho fatto dei calcoli da ormai vent'anni su questa questione forse potrebbe essere anche un modo per dire che quando una persona nella sua vita accademica sceglie un argomento non lo cambia mai certo ci sono le economie di scala se si ripete si fa meno fatica ma detto questo io ho scritto parecchio ho riflettuto parecchio concludo concludo che cosa potrebbe fare l'Italia in questi anni il prossimo quinquennio a mio avviso il di Castero affidato Paolo Gentiloni è molto importante se Paolo Gentiloni eviterà in tutti i modi di entrare nelle discussioni tra la commissione e il governo italiano circa la flessibilità del del fiscal compact quello sarebbe un errore drammatico drammatico anche perché dal fiscal compact flessibile si ricava poco quando le cifre sono quelle che vi ho detto prima i 4 mila miliardi di investimenti mancanti se si facesse un moltiplicatore di due sarebbero 8 mila miliardi in dieci anni una cosa pazzesca se non si mette rimedio lì e quello lo può fare solo l'Europa perché la Cina non sottoscrive titoli di Stato italiani e neanche tedeschi forse ma europei li sottoscrive sarebbe veramente un guaio ebbene Paolo Gentiloni ha delle competenze importantissime perché ha la competenza investimenti soprattutto EU invest che è un grosso programma la competenza sul piano di investimenti Juncker ha la tassazione di cui si è parlato prima la base imponibile e il come si chiama il dumping fiscale rientra nelle sue competenze e infine ha anche le dogane che non è piccola cosa perché c'è un problema di questo neoprotezionismo nascente di gestire in modo oculato la politica doganale quindi io credo che Paolo Gentiloni ha davanti una sfida molto seria molto importante e spero che riesca a affiancare da un lato la Fondellei e dall'altro Silvio Goulart che è chiaramente personalità di grande rilievo messa lì in modo che possa svolgere anche una politica non troppo sgradita alla Francia e quindi confermare la vocazione costruttiva dell'Italia in Europa che mi piace ricordare è stata costruttiva e costituente e non solamente una enunciazione di ideali peraltro secondo me non solo rispettabili ma anche fondanti perché io non conosco politiche che non abbiano a riferimento iniziale degli ideali grazie 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 a tutti